Buongiorno. 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 Salve. Salve. E cos'è? Ecco, quelli sono altri passaggi. No, piano, King King. Attento, attento, amore. Spostati. Sì, sì, sentiamo. Guardate. Lo sa che hanno scoperto. Questo è un campione dell'acqua del torrente. Stanno controllando l'acqua. C'è bisogno di una rete fognaria, piani di vaccinazione. È un disastro. Sì, queste sono le cose essenziali. L'acqua pulita salva più vite del migliore dei chirurghi. Perché credete che i romani dessero tanta importanza ai loro acquedotti, alle reti fognarie? Eh? Hector, come va a fare? La gente può fare questo in solito. Allora, per dargli acqua pulita, quanti autori saranno in pausa? Camino, vieni qua! Camino, vieni, dai! Vieni qua! Come va, signora? Buonasera, dottore. Una domanda, quanti anni ha il bambino? Ha dodici anni, dottore. Ha la stessa età di mio figlio. E guardate, questo è il primo gradino della diseguaglianza. E da qui si va avanti. Di sicuro avrete dimenticato quello che vi dicevo a lezione riguardo alle 5A. Le 5A. Esatto, ciò che serve agli esseri umani per crescere in modo sano sono le 5A. Aria, acqua, alimenti, abiti e affetto. That's good, very true.